Ciao sono Wendy Fantinato, a te che non conosci vorrei presentarti il reparto specialistico di dermoepilazione del centro Vanity Beauty Lab a Bassano del Grappa. La mia missione è aiutare le persone che hanno problemi di peli superflui sul viso e sul corpo a trovare la miglior tecnica in sicurezza per eliminare in maniera radicale questo fastidioso problema. Ti è mai capitato di guardarti per l'ennesima volta e dire basta devo davvero trovare una soluzione? Dopo 18 anni di esperienza nel settore dell'epilazione e la continua ricerca posso offrirti un metodo esclusivo che mi permette di garantirti i risultati certi. Il percorso inizia con un'indagine approfondita che comprende un sistema computerizzato, il VIP test, che mi permetterà di creare il tuo protocollo personalizzato garantendoti il risultato permanente radicale dei trattamenti che faremo. Voglio essere molto chiara con te, nel mio centro non vendo singole sedute ma progetti legati al raggiungimento del risultato. Hai dei dubbi? Vuoi conoscere il mio metodo? Ti aspetto nel mio mondo, Vanity Beauty Lab. Non perdere altro tempo, adesso è il momento giusto.